15 gennaio 2018 ero qui di passaggio e ho potuto non notare questi sacconi neri i ristoratori vedete ci hanno lasciato le bottiglie per terra perché la manina si deve spezzare la manina si deve spezzare 27 febbraio 2018 questa è la campana vuotissima e questi invece sono i bustoni che qualcuno ha lasciato per terra facciamo vedere apriamo i bustoni per un ulteriore volta per far vedere che qui all'interno c'è del vetro abbiamo tutta una serie di bottiglie compresa la mitica bottiglia con la retina ve la ricordate la bottiglia con la retina cari amici buongiorno il 12 marzo 2018 sono di nuovo in viale naudi perché c'è sempre quella brava persona che lascia le bottiglie di birra allora voi dovete sapere bottiglie di birra e anche in particolare adesso sto aprendo i sacchi diretti questa bottiglia ok vi ricordate bene io pochi giorni fa sono stato contattato da uno dei ristoratori di questo isolato il quale mi ha detto che mi aveva promesso che non l'avrebbe fatto più in cambio della rimozione dei tre video che ho fatto bene questa è la quarta volta che accidentalmente ci passa da questo punto e qui i bustoni sono stati lasciati per terra con una cavolo di campana vuota allora il proprietario di questo locale mi aveva detto ma guarda che stai rovinando l'immagine del mio locale oppure mi ha detto guarda che noi comunque la mattina quando finiamo di lavorare alle 5 alle 6 non possiamo far rumore e io gli ho detto vabbè ma tu anziché lasciarli alle 5 alle 6 della mattina il giorno seguente quando vieni a lavorare dici ai tuoi collaboratori di buttare una alla volta le bottiglie all'interno della campana perché altrimenti la campana del vetro non ha senso che rimanga qui allora questi sono due bustoni ma stasera troveremo altre due domani ne troveremo altre due ma ecco qui è una questione di decoro ma non va assolutamente bene guardate quante bottiglie ci sono c'è normale che bisogna lasciare le buste per terra allora poi non mi invitata a nozza a fare i video allora l'altra volta mi è stato detto ma l'immagine hai messo il locale hai messo l'insegna allora adesso l'insegna non l'ho messa qui c'è qualche lurido che lascia le bottiglie per terra e lurido ire e lurido animani perché diversamente come ti devo chiamare allora ragazzi questo è lo scenario che se vi propone ogni giorno sono qui accidentalmente non è che ci venga posto a posto è sempre l'istoratore di quell'isolato mi aveva promesso di non farlo allora la polizia locale la chiamai l'altra volta la richiamerò anche oggi purtroppo la promessa non l'hai mantenuta queste sono le tue buste non puoi dire di no c'è sempre la bottiglia con la retina adesso come gesto simbolico questa è la seconda lo puoi fare anche tu dai un po di civiltà ci vuoi hanno lasciato le buste del vetro con la campana vuota è normale campana vuota e buste per terra campana del vetro vuoto e bustoni per terra guardate la campana è vuota del vetro invece i ristoratori hanno lasciato i bustoni di vetro porci vuole dire qualcosa a questa gente è uno schifo è da vergognarsi proprio la campana è vuota è la campana è vuota è